Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro caro Alex Farmer Sono qui in compagnia di Zeo Frank Ciao a tutti ragazzi E vi presentiamo oggi la mappa su cui partirà la serie Extreme Forestry Allora, come potete vedere qui siamo nel nostro deposito Quindi qua alla nostra sinistra abbiamo ben 4 capannoni per il ricovero mezzi Qui enormi perché ci stanno veramente tantissimi mezzi Abbiamo anche dall'altra parte Mentre qui a destra invece abbiamo una zona di stoccaggio del nostro legname Cosa faremo in questa zona ragazzi? La nostra idea è quella di portare il legname qua e lavorarlo per trasformarlo in cippato Quindi faremo tutta la lavorazione qua nel nostro deposito Poi un'altra cosa che vi dobbiamo dire Partiremo con un budget davvero limitato Quindi avremo forse qualche attrezzo Esatto E poi altre cose Niente, qua abbiamo Mi sei passato sulla testa Mi sono spaventato Qui abbiamo una bella rampa per caricare i nostri tronchi o scaricarli Oppure anche per caricare il cippato che poi andremo a fare E qui invece di fronte abbiamo una cisterna per la ricarica del nostro carburante E niente, diciamo che il nostro deposito si sviluppa tutto qua Sì, totalmente immerso anche questo nel bosco Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo una strada principale Questa strada principale praticamente divide la nostra mappa in due Quindi la zona a sinistra e la zona a destra Sia a destra che a sinistra abbiamo bosco ragazzi In questa mappa qua non esistono campi Non ci sono vacche, non ci sono pecore Non ci sono scordine Non ci sono campi C'è legna, legna, legna Legna a destra A sinistra invece abbiamo legna In alto legna Sotto legna Legna e legna Non per niente si chiama Extreme Forestry Quindi Allora aumentiamo un po' il passo così raggiungiamo Zio Frank Che è partito spedito Niente, come potete vedere lo scenario è tipicamente Montano Allora proseguendo lungo questa strada qui Alla nostra destra troviamo il centro di giardinaggio Centro di giardinaggio che poi ci servirà per acquistare i nostri alberelli E ripiantarli Perché ragazzi in questa serie si Disboscheremo grosse zone boschive Ma ripianteremo anche gli alberi Per la contentezza dei nostri amici verdi Amanti della natura Faremo Faremo tutto Rimboschimento 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 Come si dice boss? Aiutami Sai che non lo so? Mi metti in difficoltà? Rimboschimento Forse ho bestemmiato Ho ucciso l'italiano Poi Vabbè le zone dopo le facciamo vedere Adesso proseguiamo lungo la strada Madonna se corri veloce Qui alla nostra destra invece abbiamo un bellissimo laghetto Che fa un po' di scena Naturalmente il laghetto ragazzi non possiamo buttare i tronchi Perché se no ci ripartiamo Non ci da nulla È romantico però Allora poi un'altra cosa che stavamo pensando con Zio Frank di fare in questa serie È ok tagliare gli alberi e venderli Ma anche con i soldi guadagnati dal taglio degli alberi Acquisteremo delle fabbriche posizionabili Quindi andremo Imprenditori Esatto Quindi andremo a lavorare il legno in maniera diversa Poi naturalmente Anche perché se no Taglia e vendi Taglia e vendi Cipato Taglia e vendi Taglia e vendi Tre puntate E poi chiudiamo tutto Ci mandate a cagare Ecco infatti Cerchiamo di fare Di lavorare la legna in più modi possibile Così da variare anche un po' i lavori che si fanno Quindi andremo a Collocare delle fabbriche appunto Per variare un po' il gioco Per variare un po' tutta la dinamica del gioco Ok Proseguendo per la strada Arriviamo qua Al punto vendita del nostro legname Anche qui A destra troviamo Delle zone per poter stoccare Il nostro legname Qui a sinistra Abbiamo un deposito per il cipato E qui abbiamo la rampetta Naturalmente per caricare il nostro cipato Sui rimorchi Proseguiamo Andiamo avanti Qua a sinistra Qua a sinistra troviamo Purtroppo questa fabbrica Non è funzionante È solo così di bellezza Ma poi noi Io appena ho visto la mappa Sono arrivato di corsa E invece non c'era una sega Per rimanere in tema Ricordiamo che la mappa Non vi diciamo ancora il nome Ve lo diremo Altrimenti c'è la foto È stata modificata un po' A nostro piacere Sì Proprio per poter Permettere l'installazione Di quelle fabbriche Di cui parlavamo prima Sì delle fabbriche posizionabili Quindi abbiamo sgomberato anche qua Sì Di posizionabili è stato Cioè di Come dire Di cose che stavano lì Solo per Per bellezza Per bellezza Sono state tolte Spostate O comunque modificate Esatto Speriamo che non si incazzi nessuno No Dai Ok Allora Diciamo che come zone Fisiche Reali della mappa Abbiamo visto tutto Io adesso direi Di andare un po' A vedere anche le zone boschive Giusto per far capire I nostri amici Di cosa parliamo Sono L'80% Della mappa Praticamente Non come quantità Ma come Come sostanza Proprio Cioè la bellezza della mappa Sono proprio È proprio il bosco Sì Innanzitutto ragazzi Guardate I alberi Quanto sono Grandi Rispetto a quelli Delle mappe di default O comunque le solite foreste Un alberello Della mappa di default È così Come questo qui Dove sono io adesso Esatto Guardate questo E guardate quello Guardate questo Quanto è alto O alla sua sinistra Cioè Sono enormi Lunghi il doppio Se non di più Le zone boschive Ragazzi Sono veramente Curate Nei minimi dettagli Ma dove infatti Penso che installeremo Le nostre Le nostre fabbriche Allora Io direi di aumentare Un attimo La velocità Così vi faccio vedere Un'altra parte Della mappa Sempre zone boschive Andiamo a manetta Ok Vi faccio vedere Dislivelli Abbiamo strade Abbiamo strade chiuse Quindi poi naturalmente Quindi poi naturalmente ragazzi Vedremo man mano Che andremo avanti Con Con le puntate Come potete vedere Qui Sarà dura Salire Perché Guardate un po' I dislivelli Che ci sono Un pezzo di mappa Ripetuto Da un'altra parte Cioè Devo dire Che hanno fatto Bello Veramente Una bella mappa Ragazzi Forse In pochi L'hanno notata Questa mappa E io l'ho notata Così per caso Girovagando un po' Sui vari siti Di mod Qua abbiamo Degli spazi Dove potremmo Stoccare anche I nostri alberi Prima di essere Portati giù Al Punto vendita Tra il taglio E il sbosco E li Immagazziniamo qui Bella idea Boss Eh si Allora ragazzi Una casetta in campagna Nel bosco Un'altra cosa Se Trovate delle mod Per Per la foresta Fatecelo sapere Sotto questo video Perché Così almeno Ci date una mano Ad ampliare Il nostro parco Mese Ecco mettiamola così Sì magari Vi viene in mente qualcosa Vi passa per le mani Una mod Che magari Potete pensare Che ci può far comodo Ce lo dite E noi saremo ben lieti Di metterla Eh si Questa che era La porta Avei sette nani Ci stava lo Ziotto Bia Lì dentro Allora Altre cose da aggiungere No Sì forse una Ragazzi La prima puntata Della serie Extreme Forestry Sarà Il 16 Febbraio Quindi State all'occhio Mi raccomando Un'altra cosa Lasciate tanti like Sotto questo video Perché se no La puntata Non esce Quindi vogliamo un po' No vabbè Vogliamo avere anche Vogliamo avere un resoconto Di quello che andremo a fare Quindi se vi piace Questo che Questa nuova serie Vorremmo saperlo Perché se no ragazzi Tanto vale Iniziare una serie Che magari Non ha Non piace A tanti Però sono Convinto Che arriveranno Tanti like E tantissimi commenti Bene ragazzi Io ringrazio Zio Frank Lo ritroveremo Nella prima puntata Della serie Extreme Forestry E niente Se non siete iscritti Al mio canale Iscrivetevi Così almeno Rimanete aggiornati Su tutte le novità Che vi porteremo Io E lo zio Frank Bene Un saluto a tutti Da Alex Farmer E da zio Frank Ciao ciao